Io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio, affinché sia dei figli del Padre vostro che è nei Cieli. E ripetessi la medesima voce che da sempre si svilterà nella storia della Chiesa. Non fanno così anche i pagani? Voi dunque? Siate perfetti come perfette, il perfetto il Padre vostro cereste.